Gentili telespettatori, buona giornata. Forza Italia contro se stessa, contro il governo. Perché? Il governo che cos'è? Attenzione, che cos'è il governo? Chi forma il governo? Il governo è formato dal Presidente del Consiglio, i ministri, i viceministri e i sottosegretari, in totale tra 65 e 70 persone. Quello è il governo. Quando viene fatta una legge nuova, un decreto legge che poi deve passare dal Parlamento, lo fa il governo, il Consiglio dei ministri, votano o non votano, comunque sia. Il Presidente del Consiglio dei ministri, Meloni, con tutti i ministri di cui ci sono cinque ministri di Forza Italia, cinque, cinque della Lega e tutti gli altri di Fratelli d'Italia hanno approvato il decreto Rave Party, chiamiamolo così. Il giorno dopo, Forza Italia, che ha approvato questa legge con i suoi ministri nel Consiglio dei ministri, dice in Parlamento correggeremo la norma anti-Rave. Quindi Forza Italia contro se stessa, che il giorno prima ha fatto passare il provvedimento. Questo l'abbiamo visto anche in passato, vi ricordate? La Lega votava dei provvedimenti e Salvini da fuori diceva no, no, siamo contro. La famosa Lega di lotta e Lega di governo che gli ha fatto perdere milioni di elettori. Forse non funziona? Eh no, forse non funziona. Che ne dite? E così, sul fronte delle norme anti-Rave presentate dal governo, come è noto, si è scatenata una durissima polemica. Ma nel pomeriggio è stato il premier, Giorgia Meloni, a mettere le cose in chiaro e a difendere con forza le nuove norme. Ho letto diverse dichiarazioni da parte di esponenti dell'opposizione, in merito alle misure prese in Consiglio dei ministri sui cosiddetti Rave Party abusivi, innanzitutto vorrei dire che è una norma che rivendico e di cui vado fiera, perché l'Italia, dopo anni di governi che hanno chinato la testa di fronte all'illegalità, non sarà più maglia nera in tema di sicurezza. Ineccepibile quello che ha detto. Ma andando avanti vediamo che il forzista Giorgio Mulè annuncia che gli azzurri presenteranno degli emendamenti in Parlamento per modificare le norme varate dal Consiglio dei ministri. I gruppi di Forza Italia a Camera e Senato presenteranno emendamenti per correggere la norma. Ma non potevate correggere al giorno prima? O stavate lì con Facebook mentre il governo di cui fate parte l'approvava? Cioè non avete la capacità, mentre si firma una norma, di capire se va bene o deve essere modificata? No, lo dite il giorno dopo perché i giornali scrivono che va modificata, allora vi mettete a legge e dicevi che forse avevano ragione, dobbiamo modificarla. Nel momento stesso non avete la capacità di capire quello che state firmando? Perché se uno non ha la capacità di capire quello che fa, dice un momento, io non sono d'accordo perché non so, dovrei prima informarmi con altri se realmente quello che stiamo per fare è costituzionalmente fattibile? Oppure cozza un po' con la costituzione? No. Per loro firmano e dicono sì, sono d'accordo senza sapere quello che stanno facendo. Ecco, questo è un bel limite, un governo di cui la gran parte il giorno dopo ci ripensa perché va a leggere sui giornali esattamente quello che commentano costituzionalisti e penalisti eccetera eccetera. Ecco, quindi una sorta di Forza Italia contro se stessa. Questo non è un bel segnale perché se tu il giorno prima con cinque ministri e con la Meloni dici sì al decreto rave e il giorno dopo dici no beh adesso lo modifichiamo perché la sinistra ci ha fatto capire che c'è qualcosina che non funziona. Ecco, non è propriamente uno dovrebbe mantenere dire l'ho firmato e mi assumo la responsabilità. Non lo firmo e il giorno dopo Forza Italia dice no guardate sinistra siamo d'accordo con voi adesso lo facciamo modificare perché sono stati gli altri che ci hanno convinto. È stata quella là, è stata quella là. Ecco, insomma, che figura è questa Forza Italia partito crepuscolare ci sta facendo veramente perdere la pazienza perché un mio amico direbbe quindi andrebbe in Polonia col giubbotto d'arelli un mio amico. Comunque, comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti e vi racconto che cosa vi racconto? Che la Meloni dice segnalate casi che danneggiano l'immagine del partito. Beh io qualche caso onorevole Meloni di casi che danneggiano l'immagine del partito ce l'avrei. No? Lei dice i suoi segnalatemi casi di personaggi che danneggiano l'immagine del partito. Io un paio, tre casi li avrei da segnalarle onorevole Meloni. Quell'euro parlamentare che abbiamo visto che faceva i saluti romani a Milano è ancora lì? Volei segnalargli questo caso che realmente non è che fa fare una bella figura al partito. Poi c'è quell'altro che lei ha appena eletto come sottosegretario che in internet lo vediamo vestito da nazionalsocialista con cui quella cosa... Questo è venuto su tutte le pagine dei giornali di tutto il mondo, di tutto il mondo. Il sottosegretario vestito da nazionalsocialista. Era vent'anni fa, vabbè era vent'anni fa, era vent'anni fa. Io non mi sono mai vestito da nazionalsocialista. Comunque. E poi c'è quell'altro caso, il presidente del senato che nel 2018 apriva la casa ai giornalisti e faceva vedere fiero un busto di Mussolini grosso così tutto nero e poi sul muro di qua un gagliardetto con il duce con l'elmetto, messo così laterale. Vorrei segnalarli onorevole Meloni questi tre casi che, come dice lei, com'è che li ha chiamati, mettono in cattiva luce il suo partito. Pertanto, insomma, devono segnalare il pesce piccolo che nessuno conosce per punirlo, mentre il pesce grosso è un fedelissimo. Va bene così. Diceva scusi, quello col busto? Va bene così. Insomma, io ho voluto segnalarle questi tre casi così. Sono i primi che mi vengono in mente. Quello vestito da nazionalsocialista, quello che fa i saluti romani e quell'altro che ha i busti di Mussolini in sala. Insomma, andrebbero allontanati dal partito, giusto? Persone che delegittimano l'immagine del partito. Come? Stiamo dicendo ai 420 che Fratelli d'Italia e fascismo non centrano assolutamente niente e poi c'è il presidente del senato di Fratelli d'Italia che a casa c'è i busti. No, erano un ricordo di mio padre. Sì, vabbè. Insomma, tanti cercano di raccontare la storia di Babbo Natale. La mia vita è piena di gente che mi vuole raccontare la storia di Babbo Natale. Io purtroppo in passato in alcuni casi ho dovuto anche far finta di credere alla storia di Babbo Natale, perché quando lavori e dipendi da qualcuno devi anche far finta a volte di credere alle storie di Babbo Natale. Grazie a tutti e arrivederci.